Buonasera a tutti dalla grande storia animata. Oggi parliamo di un tema veramente particolare. Parleremo di una categoria di persone che nel corso degli eventi che abbiamo narrato ne è sempre stata esclusa, ovvero parliamo delle donne. Perché? Perché siamo arrivati con la narrazione alla formazione del triunvirato. Nel momento in cui il triunvirato viene formato, i tre triunviri necessitano di fare cassa. Quindi cosa fanno? La prima cosa che fanno sono liste di proscrizione, nelle quali vengono inserite tutti i cesaricidi e anche persone che non erano dei sostenitori dei triunviri, erano ricche e quindi, venendo inserite nelle liste di proscrizioni, possono far accedere ai triunviri ai loro beni patrimoniali. Ecco quindi che Ottaviano, Antonio e Lepido mettono mano a una grande quantità di patrimoni. Tuttavia le spese della guerra erano state così grandi che questi patrimoni non bastano. Quindi i triunviri si trovano a corto di sostanze. Si riuniscono, cercano di trovare una soluzione e la prima soluzione che trovano è quella di tassare le nobile donne romane. In particolare, leggo a piano di Alessandria, i triunviri si rivolsero al popolo su questo argomento e pubblicarono un editto che richiedeva a 1400 delle donne più ricche di fare una valutazione delle loro proprietà e di fornire per il servizio della guerra quella parte che i triunviri dovessero richiedere a ciascuna. A questo punto le donne non ci stanno ma vedremo, sarà importante capire le loro motivazioni. Le donne si radunano, tentano di farsi incontrare dalle mogli dei triunviri. E' anche bella questa cosa come le donne cerchino le donne sembrano proprio due corpi isolate all'interno dello Stato. Quindi le mogli, le nobile donne romane si riuniscono e cercano di farsi ricevere dalle mogli dei triunviri. in particolare la moglie di Antonio le respinge brutalmente e quindi si fanno forza e vanno nel foro a avanzare le loro rivendicazioni. E colei che avevano scelto di parlare si chiama Hortensia e dice questo Leggo Perché dovremmo pagare le tasse quando non abbiamo parte negli onori nei comandi, nell'arte di governare Per cui contendete gli uni contro gli altri con risultati così dannosi Perché questo è un tempo di guerra Dite Quando non ci sono state guerre e quando mai sono state imposte tasse alle donne che sono esentate dal loro sesso in tutta l'umanità Quindi per il fatto di essere donne loro davano per scontato che non potevano essere tassate E questa è una cosa importante E' molto interessante Cioè da un lato sono escluse dalle cariche, dagli onori Ma dall'altro hanno il privilegio della mancata tassazione Va avanti Le nostre madri una volta si sono elevate sul loro sesso e hanno dato contribuzioni quando si correva il pericolo di perdere tutto l'impero e la stessa città per il conflitto con i cartaginesi Ma contribuivano volontariamente Non dalle loro proprietà fondiarie dai loro campi dalle loro doti e dalle loro case senza le quali la vita non è possibile per le donne libere ma solo dai propri gioielli e anche questi non secondo la stima fissata cioè non mi avevate tassato non per timore di informatori o accusatori anche qui rientra il tema delle proscrizioni cioè gente che accusa altri di essere collusi con i cesaricidi non con la forza o con la violenza ma secondo ciò che esse stesse erano disposti a dare Quale allarme c'è ora per l'impero o per il paese? Venga la guerra con i galli o con i parti e non saremo inferiori alle nostre madri nello zelo per la comune sicurezza ma alle guerre civili non possiamo mai contribuire né assistervi l'uno contro l'altro noi non abbiamo dato contributi a Cesare o a Pompeo né Mario né Cina ci hanno imposto tasse né Silla che deteneva il potere dispotico dello Stato mentre voi dite di ristabilire lo Stato Piano continua dicendo mentre Rottensia così parlava i triunviri erano irritati perché le donne osavano tenere una riunione pubblica quando gli uomini tacevano che pretendessero dai magistrati le ragioni dei loro atti e non fornissero a se stesse denaro mentre gli uomini prestavano servizio nell'esercito ordinarono ai littori di allontanarle dal tribunale cosa che continuarono a fare finché fuori non si levarono grida dalla moltitudine quando i littori desistettero e i triunviri dissero che avrebbero rinviato al giorno successivo l'esame della questione il giorno seguente e qui c'è anche in qualche modo la forza di questa azione delle donne il giorno seguente ridussero da 1400 a 400 il numero delle donne che dovevano presentare una stima dei loro beni e decretarono che tutti gli uomini che possedevano più di 100.000 dracme cittadini e stranieri liberti e sacerdoti e uomini di tutte le nazionalità senza una sola eccezione dovevano sotto lo stesso timore della pena e anche degli informatori prestare loro a interesse una cinquantesima parte il 2% dei loro beni e contribuire con un anno di reddito alle spese di guerra quindi io ho trovato questo passo molto interessante e ve lo riporto è molto interessante perché spiega in poche battute molte questioni di carattere sociale dell'antica Roma noi non troviamo mai le donne in prima linea o come protagoniste della vita politica romana ce ne saranno successivamente la moglie di Augusto varie mogli di imperatore fino ad arrivare magari a Gala Placidia ma questo sarà 5 secoli dopo gli eventi che narriamo troviamo però in quella frase che vi ho sottolineato cioè quando non ci sono state guerre e quando mai sono state imposte tasse alle donne che sono esentate dal loro sesso in tutta l'umanità cioè era una cosa scontata che non si potessero tassare le donne le donne non avevano onori non partecipavano alle guerre non partecipavano ai trionfi non partecipavano alla spartizione dei bottini non partecipavano alle votazioni ma per controbilanciare questa cosa non potevano essere tassate è in questo momento che si rompe questo equilibrio e questo a me ha fatto pensare come società molto diverse dalla nostra in cui noi diamo per scontato il voto chiaramente alle donne diamo per scontato la partecipazione pubblica delle donne e quindi tenderemmo a vedere nelle società antiche società magari maschiliste sicuramente c'era una forte componente maschilista sessista eccetera eccetera ma tenderemmo a vedere questa società magari con una valutazione che non tiene conto di molti aspetti e queste poche righe aprono degli interrogativi che ci permettono e ci in qualche modo predispongono a aprirci verso un mondo che forse non era così statico e granitico come magari un semplice pensiero che tende a sintetizzare tutto con una parola come mondo maschilista mondo patriarcale eccetera eccetera ci poteva fare ci può far pensare ecco volevo solo riportarvi questo breve brano per in qualche modo per suscitare qualche domanda circa quello che era il mondo degli antichi e se vi è piaciuto il video vi chiedo di mettere un mi piace di commentare se avete delle domande sostenete il canale se potete e ci vediamo al prossimo video dalla grande storia animata grazie a tutti grazie a tutti